buongiorno buongiorno a tutti cari amici ben ritrovati alla rassegna stampa di radiopiave in blu condotta come sempre dai giornalisti dell'amico del popolo oggi è giovedì 21 maggio Luigi Guglielmi che vi guida tra i principali titoli principali temi e vedremo che c'è ancora tanto coronavirus e c'è coronavirus nel senso che si va avanti con le riaperture Zai è convinto di voler anche pensare ai bambini si riaprono i centri estivi insomma si va avanti nella prospettiva che le cose tornino verso una possibile normalità però c'è molta preoccupazione anche a Belluno cominceranno a scattare i controlli da parte delle forze dell'ordine e le multe in giro perché la gente si sta comportando tanta gente troppa gente si sta comportando in modo irresponsabile e sotto accusa sono soprattutto i locali pubblici i bar i gestori si stanno comportando molto bene c'è un plauso da parte del prefetto le misure le condizioni di sicurezza sono tutte predisposte e la gente la gente che poi si siede a distanza ravvicinata senza mascherina oppure con le mascherine mezze su mezze giù mentre va portata sopra il naso stiamo attenti perché l'ha detto Zai a mille volte lo dicono i prefetti lo dicono i medici rischiamo di dover chiudere tutto di nuovo e siccome l'economia è già fortemente in sofferenza non crediamo che sarebbe opportuno rovinare tutto lo sforzo fatto per colpa di qualche un prefetto ha detto cretino per colpa di qualche cretino che porta la mascherina sotto il mento o con il naso fuori o senza mascherina addirittura vediamo i nostri giornali cominciamo con oggi con il gazzettino andiamo a vedere cosa c'è in prima pagina sul gazzettino sul nazionale allora l'apertura riguarda proprio questi timori che di cui vi dicevo prima insomma notti folli maxi multe e chiusura questo è il titolo a tutta giustezza del gazzettino nazionale bar affollati spritz senza mascherine conte non è tempo di parti e movide diciamo che il veneto in questo senso è arrivato un giorno prima questo tipo di denuncia adesso anche il governo si rende conto che questo andazzo diventa anche pericoloso zaia prepara uno spot shock dice il gazzettino il governo sanzioni salate a chi sgarra e stop ai locali il prefetto di venezia sono sbalordito da tanta superficialità ecco questo lo dicevamo anche ieri fa male dover dar notizie di questo genere sia perché vuol dire che possiamo ancora preoccuparci per quello che può succedere a causa di alcuni cretini come è stato detto ieri da anche da un prefetto insomma sia perché non so insomma sembra di assistere a un ignoranza diffusa a una stupidità collettiva che può portarci veramente a vedere richiudere tutto con danni pazzeschi anche per l'economia pensiamo a quello oltre che per la salute insomma a causa ripeto di comportamenti irresponsabili come se non si fosse capito che cosa abbiamo passato abbiamo 30 e più mila morti in italia e siamo ancora lì a giocherellare con questa cosa allora il lancio in prima del gazzettino nazionale dopo l'altolà del presidente zaia allarmato per le notti folli assembramenti di persone con lo sprizzo in mano e senza mascherina arriva quello del premier conte non è tempo di parti emovide e il governo visto il dilagare delle resse davanti ai bari in tutta italia si prepara dunque a combinare sanzioni salate a chi sgarra e anche ai locali il prefetto di venezia zappa l'orto sbalordito da tanta superficialità zaia prepara uno spot shock questo nel lancio il la fotografia di prima pagina del gazzettino mostra con lo zoom sfumato una un operatore della sanità con mascherina in volto che in primo piano ha un pacchettino di tamponi il titolo è questo la rivoluzione dei tamponi risposte più rapide i campioni verranno analizzati in gruppo parliamo di una cosa che riguarda la regione del veneto ieri la regione ha presentato la nuova modalità rapida di analizzare i tamponi i campioni saranno processati dice il gazzettino in gruppi di 10 prelevando una piccola quantità da ciascuno se il risultato è negativo va da sé che per tutte le 10 provette che tutte le 10 provette erano negative in caso di positività invece verranno analizzate una per una ci si inventa queste cose molto importanti perché i tempi di reazione si sa che sono molto importanti se c'è il dubbio che una persona sia positiva non lo si può tenere due tre giorni cioè è rischioso tenerlo due tre giorni in dubbio nel dubbio e con la possibilità che questa persona magari vada in giro e contagi altri no padova il barista nel mirino io richiudo così non si può lavorare chiudiamo riaprire così non si può non garantendo la sicurezza è lo sfogo del gestore del bar di padova nel mirino per un assembramento di persone parliamo delle foto di ieri union camere primo trimestre nero per il veneto il pil è a meno 7,1 per cento pensate che l'export ha perso il 9,1 per cento siamo veramente su valori tremendi per la nostra economia e ribadisco mettiamola sul piano economico chi chi si comporta male e rischia di senza mascherina con la mascherina abbassata col naso fuori eccetera e rischia di far ripartire tutto con i danni che possiamo immaginare per la vita delle persone e per l'economia si assume una responsabilità enorme e va condannato assolutamente mi sento di dire se vediamo in giro una persona con la mascherina col naso fuori o bassa diciamogli di tirarla su bisogna che tutti ci assumiamo una responsabilità collettiva in questo dunque andiamo avanti con con questo giornale con il con il gazzettino adesso siamo sulla parte nazionale quindi sfogliamo velocemente i titoli di carattere di argomenti carattere nazionale che ci interessano un po meno perché comunque li vedete sui giornali ascoltati in tv non è tempo della movida pagina 2 da conte a zaia rischio stretta di questo abbiamo detto c'è il l'approfondimento su questo l'intervista appunto al prefetto di venezia di prima che dicevamo non hanno capito se continua così chiuderemo tutto ecco mi piace che sia chiaro insomma questo questo concetto insomma no scatta la linea dura multe da 3000 euro a chi sgarra multe da 3000 euro a chi sgarra io dico anche una cosa speriamo che poi ci sia chi in giro la polizia i vigili le forze dell'ordine insomma che ci sia in giro chi poi queste multe le fa veramente perché se no se ne annunciamo ma non si dà l'esempio visto come sta andando insomma mi sa che non serve niente insomma meno contagiati sempre più guariti un solo positivo ogni 100 tamponi e queste sono le buone notizie che speriamo di poter continuare a dare anche nei prossimi giorni pagina 5 vi dicevo il piano un mix di tamponi per accelerare i responsi pagina 5 dedicata alla conferenza stampa di ieri di zaia in cui appunto la regione annuncia questa sua nuova tecnica insomma per per portare avanti in modo ancora più rapido la 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 caccia ai ai casi positivi di coronavirus sempre in questa pagina taglio basso c'è la foto del professore andrea crisanti il virologo di padova che sta a braccetto con zaia insomma sta dettando un po la politica di questo di questo periodo vediamo sempre no zaia con a fianco giampaolo bottacin l'assessore nostro bellunese emanuela lanzarin l'assessore la sanità bottacin protezione civile lanzarin sanità e spesso con loro compare anche il professore andrea crisanti le macchine si sono rotte gli uomini la carta vincente è il titolo da 20.000 dice il l'articolo a 120.000 ossia l'anno scorso ogni mese all'azienda ospedaliera di padova si si processavano 20.000 tamponi adesso con l'emergenza coronavirus gli esami che vengono fatti ogni mese sono saliti a 120.000 sei volte tanto e con lo stesso personale di prima che lavora organizzato su tre turni h24 tutto il giorno ininterrottamente anche nei giorni di festa è così che ieri in una diretta facebook dall'azienda ospedaliera di padova il direttore luciano flor e il direttore dell'unità operativa complessa di microbiologia andrea crisanti hanno ringraziato i dipendenti dal primo all'ultimo all'ultimo tecnico di laboratorio il personale è stato la carta vincente e flor ha detto le macchine si sono rotti gli uomini no e poi c'è tutto il discorso sui numeri ecco se servivano altre così prove della della generosità insomma che i nostri operatori della sanità hanno dimostrato in questo frangente insomma penso che le abbiamo avute anche ieri da queste dichiarazioni insomma venute dalla dall'ambito dell'università di padova italia viva salva buona fede è il titolo pagina 6 la sfiducia viene bocciata il pd ma la giustizia non va vabbè di questo abbiamo già detto qualcosa insomma all'inizio renzi confessa ai fedelissimi spiazzati so di avervi deluso ma non avevo scelta qui verrebbe da ironizzare sul problema della visibilità con cui i politici devono fare i conti e sulle cose che i politici devono inventarsi per garantirsi la visibilità vabbè insomma lasciamo lasciamo perdere pagina 9 prestiti garantiti dallo stato i rimborsi salgono a 10 anni c'è sapete c'è la storia dei 25 mila euro ecco questa pagina è tutta dedicata all'approfondimento sul bonus aprile bonus babysitter il bonus maggio le biciclette le colf vacanze ecobonus reddito ecco se volete saperne di più pagina 9 del gazzettino la parte nazionale dunque turismo la ue l'unione europea frena l'italia prima vediamo i contagi il nostro paese chiede un piano per evitare l'isolamento siamo un mercato unico siamo europa la croazia sì ma ha intese bilaterali e l'austria ed è irresponsabile aprire i vostri confini cioè i nostri dell'italia l'austria ha un atteggiamento anche qui insomma non commento ma non mi piace ecco nel mirino di brusseli il dumping fiscale contropiano dei falchi questo è un temone è che non abbiamo tempo per per approfondirlo ma questa faccenda che ci siano degli stati nei quali all'interno dell'unione europea nei quali il sistema fiscale consente favorisce l'insediamento delle aziende in uno stato invece che un altro perché il regime fiscale è più vantaggioso e questo mette crea degli svantaggi evidenti nella patria dove le aziende nascono pensiamo pensiamo alla fiat insomma che ha dovuto ha voluto spostare altrove la propria testa per ragioni fiscali sostanzialmente ecco questo è un disastro in un'europa unita che possa avvenire questo e su questo si ragiona si ragiona brussela gentiloni all'attacco dei paesi il nostro gentiloni all'attacco dei paesi che praticano politiche aggressive per attrarre le imprese e poi invece olanda austria svezia e danimarca contrari all'ipotesi merkel macron niente sovvenzioni sapete sul discorso della creazione del debito unico insomma sono temi difficili quelli che riguardano l'europa non è facile però dovremmo veramente seguirle di più anche perché se non seguiamo quello che succede in europa non vediamo neanche le cose positive oltre a quelle negative e le positive sono tantissime e poi siamo preda noi cittadini se non ci informiamo abbastanza di quelli che denigrano l'europa solo perché per fare politica hanno bisogno di un nemico no allora il nemico può essere il migrante può essere l'europa e si spara zero magari speculando sulla vita delle persone o addirittura sulla salute dei nostri stati insomma perché pensare di remare contro l'europa insomma è un atteggiamento sul quale bisognerebbe insomma riflettere molto prima prima di prima di parlare no allora andiamo andiamo avanti raggiungo la pagina di belluno la prima pagina di belluno eccola qui in turismo la scommessa montagna ottimista il direttore di dmo dolomiti manager management organization giuliano vantaggi che punta su spazi aperti e scorci spettacolari per lanciare la stagione grandi assenti gli stranieri ma per questa estate si punterà sul mercato nazionale noi siamo pronti queste le dichiarazioni di giuliano vantaggi che abbiamo avuto ospite anche poco tempo fa all'amico del popolo in un'intervista no club alpino le sezioni sono al lavoro lungo i sentieri il la fotografia di prima pagina movida scatenata controlli più ferrei e qui si parla di di belluno lotta al contagio il piano di prefettura e questura qui parliamo di belluno già nelle prossime ore il questore di belluno fredella sarà impegnato per mettere a punto un piano per verificare il rispetto delle regole e del distanziamento sociale l'obiettivo è quello di scongiurare il pericolo di assembramenti e speriamo perché perché non sta succedendo non c'è questa situazione di rispetto in giro per belluno dunque l'alleanza per salvare le rondini ieri abbiamo messo questa notizia sull'amico del popolo abbiamo fatto un botto di condivisioni like segno che a voi il tema è piaciuto tantissimo ai lettori a chi ci segue belluno città delle rondini il progetto è stato varato ieri in provincia ha messo assieme cacciatori ambientalisti e animalisti le rondini sono in drastico calo ma la loro presenza è fondamentale non solo per far fronte agli insetti ma anche a fini turistici fra le prime azioni il monitoraggio il controllo dei nidi in rapido calo lo certificano i censimenti periodici della polizia provinciale quest'anno sono stati rilevati solo 20 esemplari credo fosse 20 nidi abitati in realtà è che non vuol dire 20 esemplari ma insomma il gazzettino scrive così e io così vi leggo trauma alla testa questa è una notizia terribile accaduta ieri trauma alla testa muore un 53enne è giallo sulle cause eseguita ieri l'autopsia sul corpo del ponte alpino rino bortoluzzi è stata eseguita l'autopsia sul corpo del 54enne rino bortoluzzi di ponte nelle alpi la famiglia dell'uomo infatti ha chiesto che vengano approfondite le circostanze del decesso i primi accertamenti hanno confermato che a causare il trauma cranico potrebbe essere stata una caduta peso morto servirà altro tempo invece per capire se ci siano stati dei ritardi nel trasferimento dall'ospedale di belluno a quello di treviso e anche qui insomma ci sarebbe da riflettere su questa nostra impossibilità a belluno di gestire fino in fondo i casi probabilmente la direzione della sanità è questa ci sono delle altissime specializzazioni che non possono essere collocate in tutte le province però il soggiorno intermedio prima di arrivare all'alta specializzazione ci si chiede se a volte non possa essere causa di morte e chi ha la specializzazione alta vicino a casa propria sicuramente sta meglio di chi invece passa per ospedale intermedi per poi scoprire dopo che magari era meglio l'ospedale più elevato no ieri sedico precipita dal cassone operaio grave precipita dal camion che sta scaricando all'ecocentro di sedico e finisce in rianimazione la vittima questo incidente grave è un longaronese classe 57 si è spezzato il collo povero e insomma la situazione non è non è buona è caduto dalla pedana del camion all'ecocentro di sedico un volo di un metro e mezzo però è andato giù di testa e si è fatto e si è fatto molto male allora anche da qui un augurio forte forte a questa persona ai suoi familiari speriamo proprio che le prossime ore ci portino buone notizie su questa persona coraggio forza agordo proloco vicino ai negozianti regalato il gel il distretto bellunese porta la cina in tribunale il distretto turistico delle dolomiti contro il ministero della sanità della repubblica cinese sapete che di questo tempo abbiamo di questo discorso si era parlato anche recentemente insomma perché non tutti sono d'accordo su questa idea di far causa alla cina perché comunque tantissimi turisti vengono dalla cina c'è il rischio che il nostro territorio ne esca male insomma ecco i ragionamenti sono sostanzialmente questi movida avvertita al via i controlli per impedire assembramenti scatteranno da domani e riguarderanno locali plateatici il questore già al lavoro per pianificare tutti i dettagli ripeto stiamo parlando di belluno gestori promossi virgolette i clienti rimandati ai prossimi giorni dice il prefetto co gode cioè i gestori dei bar si sono comportati bene hanno proposto le condizioni perché ci siano le misure di sicurezza i clienti insomma così così non si sono comportati tanto bene e allora il prefetto ci scherza su e dice vabbè dai rimandiamo ai prossimi giorni vediamo come andrà nei prossimi giorni appello dei medici bellunesi non abbassiamo la guardia lettera aperta dell'ordine provinciale ai cittadini invitandoli a rispettare tutte le norme anti contagio ve lo metto anche più grande così lo vediamo bene il presidente umberto rossa assembramenti inopportuni ci riporteranno a un picco di casi non credo servano commenti terzo giorno senza positivi provincia di belluno aumentano anche i guariti e questo è logico perché col tempo i guariti vengono fuori a telios arriva lo psicologo come aiuto a superare la crisi la fase 2 la sfida del turismo noi siamo pronti è l'intervistona a giuliano a giuliano vantaggi dmo ragazzi via dai banchi un questionario online per capire i problemi e questo così una zoomata sulla scuola ci sono le buone notizie di ieri sul rilancio del nevegal la regione si impegna e la provincia si impegna insomma adesso bisogna vedere se il comune riesce a portare a termine questo passaggio di acquisire la proprietà degli impianti e poi si dovrebbero poter ottenere sostegno e risorse dalla regione in primo luogo ma anche la provincia ha promesso di fare la sua parte perché c'è questa convinzione che il nevegal dal punto di vista dello sci ma gli impianti servirebbero anche per l'estivo dal punto di vista dello sci sia una porta insomma a favore del veneto del basso veneto insomma per imparare a sciare per venire tra le dolomiti poi uno va sulle località più blasonate più importanti però all'inizio bisogna passare per il nevegal insomma è stato così per decenni e si può continuare a fare così questa è la convinzione nasce il piano salvarondini abbiamo detto ecco io adesso volevo passare al al corriere aspettate un attimo che riduco le dimensioni di questa di questa pagina e passiamo al corriere delle alpi vi faccio vedere che cosa c'è qui quali sono le notizie in prima pagina sul corriere delle alpi vediamo se c'è il tempo anche di leggere qualcosa dentro si punta sull'economia oggi e ci sono due temi entrambi entrambi pesanti insomma economia nei tempi del coronavirus l'occhialeria occhialeria ordini azzerati queste tre parole di titolo a tutta giustezza del corriere delle alpi di oggi rischi per l'occupazione nel settore di punta dell'economia bellunese il presidente an fao chiede incentivi dunque la foto centrale invece si riferisce a un autobus dolomitibus nel contesto pazzesco bellissimo la zona di passo giàu con il blocco della verau meraviglioso e l'autobus è di quelli a tre assi con la livrea che ricorda l'ambiente dice take care of our planet e poi il titolone dolomiti dolomitibus senza utenti perde ogni mese 300 mila euro la nostra azienda di trasporto in queste condizioni sta perdendo 300 mila euro al mese rendiamoci conto di qual è la situazione zaia va avanti sui centri estivi lunedì partono anche i nidi l'intervista il sociologo pace serve il vaccino contro le ferie nella comunità non finirà il male con il male fisico e con quello economico covid ne produrrà anche uno sociale sarà bene pensare ad un vaccino oppure per quello l'avvertenza del sociologo enzo pace il richiamo dei medici l'epidemia non è finita il rossa abbiamo visto già sul gazzettino parrucchieri taglio e colore costano di più ma abbiamo nuove spese dicono gli operatori zaia non si ferma lunedì riaprono centri estivi nidi materne e musei tamponi cocktail di provette questi sono i temi delle prime pagine del corriere mi fermo con questo sull'occhialeria perché ci riguarda tutti perché l'occhialeria è la nostra industria principale c'è un'intervista a giovanni vitaloni presidente di anfao è un piemontese che ho anche conosciuto una persona molto ragionevole molto pacata crisi dell'occhialeria gli ordini sono azzerati dice vitaloni il mondo si è fermato e con lui l'esport per vitaloni la situazione è drammatica abbiamo chiesto aiuto al governo servono incentivi per il settore vista dicevo mi fermo con questo come al solito un saluto un abbraccio virtuale a tutti grazie per l'attenzione grazie che ci seguite mi raccomando in giro comportamenti responsabili andate a bervi la birra però tirate giù la mascherina quando fate la sorseggiata e poi tirate la super piacere sopra il naso tutti a posto che così andiamo avanti ripartiamo bene ricominciamo con l'economia ciao a tutti grazie ciao